Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Papà Salvo Prima di cominciare questo video iscrivetevi al canale Cavaleri Family Cliccate sulla campanella e seguitici anche sui nostri social Instagram e TikTok Ovviamente non dimenticate di iscrivervi anche al secondo nostro canale Cavaleri Sisters, il canale di Aurora e Noemi Ragazzi, come avete visto lo scorso video Che cosa? Non l'avete ancora fatto? E allora cliccate proprio qui e andate a vederlo, commentarlo e mettere tanti mi piace Che cosa è successo ragazzi? È arrivato un pacco misterioso, una mystery box direttamente dalla Sicilia Io, Aurora, Noemi e mamma Claudia ci stiamo sfidando in una challenge Ragazzi, secondo voi di cosa si tratta? Opzione numero 1 Stiamo scartando i regali di Natale Opzione numero 2 Stiamo scartando la pasta, il pomodoro e tante altre cose Opzione numero 3 Sono tutti i libri di scuola di Aurora e Noemi Scrivetelo su nei commenti e fateci sapere la risposta esatta di questa challenge Mamma, a chi tocca adesso? Tocca a me? Papi, ora tocca a te, vediamo Ok, Aurora, guarda, io ci vedo, pronto? No! No, papi, non barare Eh, ecco, brava, Auri, controllalo per piacere Va bene così, sono bello Dai, forza, vai dentro Allora Ma papi Eh, fa tanto rumore È molto squiscioso Ecco, sì, quasi Ma fa anche profumo Eh, sì, profuma Secondo me è per me lo scarto Ma come, ma per detersivo la lavatrice? Papi, mi spiace e questo è il tuo regalo Così impari a fare anche le lavate e a usare la lavatrice Ma mamma, non è giusto Questo l'avevano messo forse per farmela avere Vabbè, vabbè, dai Ti diamo una seconda possibilità L'ho messo dentro io Oh, oh, oh Ti ho fatto uno scherzone Ok, vado, eh Vai, vai, papi Eh, ma questo è un po' Eh, che è? Pesante? Che succede? Ma mamma, non esce più Ma no! Allora, mamma Chiudo la scatola Eh Però ti devo dire una cosa Che cosa? Questo qui Io voglio totalizzare dei punti E quindi non sbaglierò sicuramente Questo qui È per me Ma è pesante? È molto pesante E secondo me È per me E da bendato ti dico anche Che me l'ha fatto Lo zio Andrea Jody e Sofia E non ci vedo, eh Capito? No, 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 no Fermi tutti Scusate Come fa a essere così certo Di questo pacco regalo? Qua c'è lo zampino Un po' Truffaldigno Di qualcuno Come fai a sapere Da parte di chi è? Scusa? Mamma Ma secondo te Io mica lo so Non so neanche dove sei Scusa Vabbè, vabbè Fatemi vedere Vediamo Vediamo se c'è un nome Papi Ho sbagliato Non è solo per me E anche per te Mamma Claudia Hai ragione Papi Quindi Non ti daremo un punto intero Ti daremo mezzo punto Mamma Scarca allora Ok Vai papi Siamo curiosi Siamo curiosi Che cos'è? No, vabbè Sì 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 Super biliardino 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 Pizzola snocciolina Piccolina snocciolina Sei pronta? Devo dare una mano? Sì E allora 3 2 1 Per Aiuto Vai Eby Pronta? Vai Eby Eby Sì Tienilo in mano Più pesante di te Secondo te Che cos'è? Fa rum Non te la fai neanche Lo passi Lo rimetti dentro O lo scarti Lo scarti Lo scarti Sì Quindi secondo te Per te Questo regalo Sì Vediamo Togli la benda Leggerà Aurora Dov'è? Noemi Nonni Dai nonni Dai nonni Per noemi Ragazzi mi raccomando Scrivete giù nei commenti Se anche voi avete a casa Qualcuno dei regali Che avete visto Che hanno scartato Aurora e Noemi Mamma mia Un tavolo da lavoro Da lavoro Da gioco Con le puzzle Con tanti puzzle Con tante scritte Con tante tutto Ma è bellissimo Eby Guarda mamma Ci sono 40 attività Ma è fantastico Guardate Mamma Ah possiamo fare Anche il gioco Dell'oca I percorsi Schede di scrittura La lavagna Avete detto scrittura Io sono amata Della scrittura Brava Auri quindi aiuterai Tu tua sorella A questo punto Evviva Mamma Mettiamolo nel tavolo Dei regali Questo è il friggio Canto del mondo Eh scusa Tocca a Aurora Questa birichina Che ha due occhi Che io li schiaccio Auri già hai pescato Così Con semplicità No 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 sì Hai barato No Va bene Quindi Ha pescato Ha pescato Quindi cosa fai Vediamo È leggero È leggero Secondo Bello scarto Lo scarti Lo scarto Sicura E allora vediamo Toghiamo questo E secondo voi ragazzi Di chi è questo regalo Scrivetelo giù nei commenti E fatecelo sapere Vediamo Aurora ha deciso di scartarlo 3 2 1 Ragazzi c'è scritto Aurora Da zia Cinzia e Giampi Giampi Ma è tuo Auri È tuo Scarto immediatamente Vediamo 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 Ancora In alto Ma è un doppione Tanto devo regalo A mia sorella Ragazzi A voi è mai capitato Di ricevere Due regali Uguali Ma poi dai parenti Che si mettono D'accordo Tu cosa fai ad Aurora Eh io faccio Un diario segreto E tu Eh io pure Un diario segreto Ah vabbè Allora lo facciamo uguale Beh ma la loro fortuna È che sono due sorelle Quindi Possono condividere Gli stessi giochi Facciamo il punto Della situazione Mamma Aurora Ha totalizzato Due punti Noemi Ha totalizzato Due punti Papà salvo Ha totalizzato Mezzo punto Io non mi ricordo Zero Zero Ho capito Ma ora tocca a te Speriamo Tieni papi Tieni Forza mamma Mi rimetto la tenna Mamma tu bari Fammi vedere Quanti sono questi Basta Forza forza Aurora Non la farei barare la mamma Allora Ma cosa stai facendo Ma vai dentro Cosa fai mamma È finito tutto Mamma Mi piace se anche a voi piace scartare tantissimo i regali Ma sempre due ne prendi tu scusa eh Eh sì per essere sicura Allora lo scarto Lo scarti tu No no Lo scarto Lo scarto Lo scarti Lo scarti Ero indecisa se rimetterlo dentro Lo scarto Vediamo Vediamo Togli la benda Ma è di Aurora Sono sempre a zero Io Sei scandalosa mamma Forza Aurora Scarta Vediamo 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 Che cos'è Belli Wow La gira brilla Mamma Questa è la mia La gira brilla Mamma Tu sei a zero punti E tocca a me Qua c'è il sorpasso proprio letale Ragazzi Sono scarsissima in questo gioco Scrivete giù nei commenti Intanto Un pronostico Secondo voi Chi vincerà questo gioco Te Tu Con mezzo punto Ma magari io Che sono a zero Facciamo un ribaltone Una cosa dici Vai tocca a me Vabbè vai papi Vai vai Papi papi Mi è venuta in mente una cosa Prima che inizi a pescare Ma che c'è mamma Ma sembra Sembra quando tocca a me Eh sì papi Faremo in questo modo Anche perché O facciamo così O non abbiamo possibilità Di vincita io e te Ne pescherai due Non più uno Quindi Da un lato Diventerà più difficile Indovinare due regali Per due persone Dall'altro lato È l'unica chance Che abbiamo Per poter recuperare Un po' Questa disfatta Ok papi Vado Vai papi Vai Prendine due Dai Dai Due regali Forza 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 Papi Papi Tutto ok papà Eh non lo so Noemi Sei sicuro Ho indovinato Ho indovinato Ho indovinato Hai sbagliato Primo punto Fallito Quelle di Noemi E l'altra di Aurora Papi Non ci credo Allora Tre Due Uno Via Vediamo chi sarà più veloce Mamma mia Aurora con quelle Mani lunghissime Con le dita E Noemi Con le mani piccoline Ma queste lol spopolano eh Ragazzi io direi che a questo punto possiamo fare la classifica ufficiale Quella definitiva Quindi Aurora ha totalizzato due punti Noemi ha totalizzato due punti Io Zero Proprio una schiaffa totale E papà salvo Che doveva utilizzare questa sfida per ribaltare il risultato Ha fallito proprio all'ultimo Quindi solo mezzo punto Papi Mamma la brutta sorpresa lo sai qual è? Eh I regali sono finiti Niente papi abbiamo fallito Abbiamo perso Hanno vinto loro Vabbè meglio però giusto? Ebbè certo mamma Alla fine è giusto così A carnevale è un scherzo vale Ma cosa c'entra a carnevale? Ma che dici? Ma che dici? Va bene ragazzi Mi raccomando intanto spolliciate E mettete un bel mi piace per questa challenge Se anche questo nuovo video vi è piaciuto Ricordatevi di Iscrivervi al canale Cavaleri Family E cliccate sulla campanella Ricordatevi anche di seguirci sul secondo nostro canale Cavaleri Sisters Il canale di Aurore Noemi E Noemi Ma ricordate Noi siamo i Cavaleri Family Mamma dove sono? Eh papi guardale sono là Eh allora vi faccio il solletico Le prendo Vieni qua Ma dov'è Noemi? Non la trovo Mamma a te ti faccio il solletico Dove? Eccola qui Piccola macciosa Ti faccio il solletico Che cosa c'hai qui? Cos'hai qui? Eh no Non riesco a aprirla Eh amore Te l'apro io la LOL E allora ragazzi Chiudiamo con la LOL di Noemi Vuoi salutare a qualcuno Emi? Ciao Ammiri Ammiri Ciao Chiudiamo con la LOL di Noemi Ciao ciao Aspetta aspetta dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavaleri Family Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavaleri Family Ci vediamo